Il Vasto Girardi con una prova sontuosa abbatte per 3 reti a 1 il notarisco e regala la prima gioia della stagione al pubblico amico. Dopo soli 7 minuti i gialloblu perdono la punta centrale rorusso per un problema alla spalla e Colitta manda in campo Bentos Vázquez risegnando la squadra con un 4-2-3-1 con Calemme D'Ernandez esterni alti e Sergio sottopunta. La prima occasione del Vasto Girardi arriva al 24esimo con Hernández che rientra sul sinistro e va a centimetri dall'1-0. Il vantaggio arriva al 32esimo con Ruggeri che correggere in rete di testa questo cross di Calemme e fa esplodere il ditella. Al 36esimo Calemme ci prova sul calcio piazzato ma la palla accarezza la traversa e va sul fondo. Nel primo minuto di recupero il notarisco già sotto di un gol va anche sotto di un uomo. Badan entra così su Hernández, secondo giallo e doccia anticipata in chiusura di primo tempo. Nella ripresa il Vasto Girardi controlla agevolmente il gioco e al 17esimo radduppia con Calemme che sfrutta l'ultimo pallone lavorato da Hernández e insacca con un destro chirurgico. Al 21esimo il neo entrato Fiori inizia con le sue sgasate sulla destra, va al tiro ma non c'entra il bersaglio. Un minuto dopo un'occasione colossale capita ad Hernández che supera anche Shiba ma De Caro salva in extremis. Al 23esimo il notarisco si affaccia in avanti con Babai che prova a fare tutto da solo ma calcia centrale. Al 26esimo Fiori sgroppa sulla destra e offre a Hernández che cestina così un 3-0 già fatto. Al 30esimo altra occasione di Fiori che si beve un avversario ma non inquadra la porta. Poco male perché un minuto dopo il 17 va a bersaglio dopo una verticale illuminante di Calemme e Shiba è battuto per il 3-0 giallo-blu. La gara sembra ormai in ghiaccio ma il vasto Girardi arretra un po' il baricentro e il neo entrato di Rienzo colpisce da azione d'angolo con la difesa un po' troppo ferma per l'1-3. Al 44esimo Hernández potrebbe fare poker ma viene ipnotizzato da Shiba e fallisce l'occasione. Alla fine è festa in casa il vasto Girardi che incammara i primi tre punti del campionato ai danni di un notarisco spuntato con un gruppo giovane di talento e motivato che ha ancora ampi margini di miglioramento.